ok funghetti abbiamo detto che ce l'abbiamo questa no la possiamo prendere ma è cattiva quando incredibile credibile is nothing prima che gli immortali seppellissero la città vecchia dovrei utilizzarlo per aprire l'entrata di kitesh ok di qua lara ci dobbiamo mettere le fessure oiaiaia qua mi puzza di meccanismo da sbloccare oddio mamma mia ci è mancato poco vai scendi scendi attenzione qui c'è qualcosa no vai piano è proprio un planetario usa il planetario meccanico per aprire l'ingresso attruttiva si vediamo allora funziona allora dobbiamo andare da qua parte giusto cosa fa oddio a lara però dai e cioè quando ti dico da andare da una parte baci da una parte è vendo cacchio te pare allora e non posso non posso saltare perché mi ammazzo ci ammazziamo la retta ci ammazziamo allora dovrei riuscire a rimetterla in posizione siccome allora proviamo tira allora dobbiamo andare dall'altra parte quello pure si tira allora noi adesso potremmo fare così madonna lara guarda ho avuto una paura pazzesca possiamo scendere sì 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 allora allora vediamo devo metterla nella giusta posizione suppongo dobbiamo andare lì perché vedo che c'è il passaggino allora io girerei questa vai ok adesso possiamo salire qui senza cadere parede sì parede sì bene 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 non va bene però non va bene l'ara non va bene aspetta aspetta ma lì possiamo salire non credo no scusa un attimo a riscendi a riscendi brava e allora tiriamo anche questo ok se tiriamo ancora questo tanto perché capì che succede ecco sì sì perfetto così noi da qui vai 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 la retta perfetto adesso noi da qui saltiamo perfetto adesso fammi capire un attimo una cosa eh allora eh non va bene non va bene l'ara non va bene non ci siamo l'ara non ci siamo non ci siamo perché non possiamo usare l'arco così allora torniamo indietro scendi ok allora da lì noi dobbiamo andare aspetta forse da quest'altra parte dobbiamo saltare su quest'altro quindi giriamo ancora questo così ci siamo perfetto almeno spero vai ok si giochi su a carucci che te fanno un po' un po' allenare la mente a pensare però c'era bisogno di tutti questi enigmi sempre enigmi che io non gli supporto adesso vai la retta vai grande così ma vediamo che dobbiamo far qua sopra ok monete prendiamole devo liberare il meccanismo che senso aspetta un attimo aspetta possiamo andare qua sopra? si possiamo andare anche dall'altra parte ah ma forse questo lo dobbiamo far ruotare tipo no qui non c'è una ceppa? no aspetta aspetta c'è qualcosa qui vedi? aspetta dove siamo? i mongoli distrussero tutto e la città sprofondò nel ghiaccio ok sappiamo quasi tutto il greco eh voglio dire allora eh sblocchiamo pare che qua si sblocca boh vai che dobbiamo far? tirare tirare tiriamo tiriamo ok lascia molla Lara allora adesso da qui suppongo noi dobbiamo saltare lì e poi andare dall'altra parte vai comando Lara non cadere bravissima andiamo di là ok sblocchiamo pure questo come così vai ok quindi il popolo di Jacob era alla vanguardia vai attenzione vai insomma ma dai ma come si fa? no ma tutto in movimento siete pazzi? come si fa? guarda qui sicuramente no troviamo con questo? nooo sapevo io ma porca no mi sa che mi devo mettere non saprei poi dall'altra che cazzo perciò da qua aspetta eh we we bada 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 la retta allora boh grosso problema eh non sa quante cacchie tutte volte cascheremo da qua a noi vabbè allora prenderei questo io ok eeeh poi vediamo qui che cosa possiamo prendere qualcuno ci deve passare passaggio please brava Lara brava no abbiamo perso abbiamo perso abbiamo perso dobbiamo aspettare no porca puzzola dobbiamo prendere questo Lara questo questo vai 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 vada pazienza Lara pazienza pazienza ok ok adesso questo vai ma tu guardi con tutte le volte che secate poi eh non capisco dove dove è che devo di qua vai adesso dove Lara dove qui vai 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 la retta vai no 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 mamma mia l'ho vista bruttissima proprio l'ho vista brutta brutta dovrei non cadere eh dovrei non cadere toccare rifattuto da capo no mamma mia ce l'abbiamo fatta ok ok ci siamo mamma mia un miracolo siamo con tutti una volta sola Lara una sola ti rendi conto che cuore che cuore che cuore ok monede monede e poi non c'è nient'altro possiamo leggere vai un codice questo parla delle tecniche di tiro con l'arco sviluppate a bisazio vecchia scuola abilità appresa aumenta a tre il numero di frecce che puoi scoccare rapidamente in sequenza senza dover estrarre di nuovo la fa la retta va bene allora qui dobbiamo dobbiamo per forza posizionare una freccia qui poi una qui una qui poi non capisco dov'è che dobbiamo andare ma comunque una qui proviamo eh mammo da qua all'anno sono sicuri i miei dubbi ok ah no aspetta 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 dobbiamo mettere il cellulare là lo vedi ma c'è la torino da là mi pare un po' un'assurdità a me posso dire forse lì ce ne andavano tre però abbiamo toto l'altra ma vaffa l'ova Lara ma che sei a fa eh vabbè ma scusa quando è verde non le non dovrebbe toglierle no niente le togliamo questo ok troviamo questo non lo so non saprei siamo a colse un altro delle frecce vai qui la vedo dura non siamo cascati al planetario cadiamo qui vai vai perché non è verde ho paura di saltare se non è verde Lara e adesso vai vai grande Lara grande mamma mia campani la città vecchia vicina siamo sulla montagna sopra il biacciaio vedi gli uomini della trinità si stanno iniziando le operazioni sto entrando nella città vecchia Sofia una cosa non attaccarli subito ok aspetteremo ti ricontatto tra poco ok si può prendere il suo no si è buggato evidentemente vabbè qui ho visto qualche altra cosa intanto mappa giornata fatto qui qui questo sempre che si può leggere ma perché ma vaffalola aspetta 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 Lara aspetta il folle continua ad andare avanti non so cosa lo guidi abbiamo attraversato le montagne ghiacciate ai confini del mondo il suo popolo sta morendo ogni giorno mi imbatto in tombe o corpi lasciati lungo il cammino sono diventato per le ossa ma sono vicino la cavalla che non mi aveva mai abbandonato dalle campagne contro i bulgari è morta l'ho macellata e trasporto la sua carne sulla mia schiena ma sono vicino li sento cantare dall'altra parte del crinale un suono gioioso trasportato dal vento il profeta morirà entro la fine della settimana e io tornerò triunfante all'ordine della trinità ancora un giorno e l'avrò preso si va bene legno c'è nient'altro qua no occhio Lara molto successivo che si posti ma secondo me sono pericuosi vai vai su vai su dritta dritta per dritta dritta per dritta c'è nient'altro che lingua parla quindi dobbiamo saltare di là sbrigati sto ghiaccio si rompe sbrigati vai su vai su sbrigati sbrigati dai la retta scusa dov'è che dobbiamo andare? di là o di qua? ma no di qua dobbiamo andare di là ma dove siamo finiti? ma dimmi te dove passiamo? noi crollatutto incredibile cassettine attenzione ora dobbiamo arrivare alla sua voglio sapere vieni marazzolino da qui da qui vai guarda quanti sono paura io paura Lara ma dobbiamo andare per forza con la parte? quelli c'hanno pure la l'armatura vai sulla boccuccia sulla boccuccia madonna Lara però cioè fa certi salti veramente vai 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 Grazie a tutti.